Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera MyTeam su F1 2020 siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Spagna della stagione 1 quella che vedete in sovrimpressione è la classifica di campionato che vede Louis Hamilton saldamente al comando sebbene l'ultima gara l'abbia vinta Max Verstappen con una grandissima prestazione nel suo GP di casa in Olanda quanto noi siamo chiaramente a 0 punti con un tredicesimo posto tenuto a Melbourne in Australia come migliore risultato la gara migliore della stagione però è stata l'ultima proprio quella in Olanda perché sono arrivato al quindicesimo senza nessun tipo di aiuto da parte di Safety Car o cose del genere la macchina ha mostrato una bella competitività sia in qualifica che in gara sono stato davanti sempre davanti a Mazzucita fino a quando poi Mazzucita si è ritirato è stata una bella gara è stata una buona prestazione e adesso qui in Spagna arriviamo al circuito che conosciamo meglio al circuito su cui questa macchina è nata perché abbiamo passato tutta la stagione 2020 a testare qui su questa pista di Barcellona quindi le aspettative sono quelle di eguagliare si spera la quindicesima posizione ottenuta in Olanda e magari anche di migliorarla nel caso di qualche evento favorevole qualche Safety Car al momento giusto o cose del genere non è lecito chiedere di meglio perché siamo ancora abbastanza indietro per quanto riguarda gli sviluppi siamo ancora la seconda peggior macchina perché non sono arrivati aggiornamenti in vista di questa gara come vedete ci sono in sviluppo ben tre aggiornamenti di aerodinamica, di motore e di telaio ma arriveranno tutti nelle prossime gare quindi per questa gara qui di fatto non abbiamo portato nulla di nuovo l'unica squadra che ha migliorato veramente tanto è stata l'Alfa che da giudicare come ha migliorato avrà portato o due aggiornamenti normali oppure un aggiornamento importante comunque sì l'Alfa ci è scappata adesso siamo fino a un paio di gare fare avevamo tutti lì attaccati noi l'Alfa, la Haas, la Williams era dietro adesso ci siamo noi la Williams attaccati e Alfa e Haas che se ne sono scappate via davanti quindi stiamo perdendo un po' di competitività invece di guadagnare stiamo perdendo e non è proprio fantastico una cosa che ci darà invece una mano, una grossa mano è il motore perché faccio debutare il secondo motore il motore termico è il secondo turbo compressore in questa gara visto che il turbo compressore è arrivato al 73% di usura il motore è arrivato all'83% ormai questi due unità qui di motore turbo le userò soltanto nelle prove libere perché ormai in gara fanno schifo ecco sono troppo troppo lenti quindi avrò un bel boost di motore perché il motore è nuovo si intravede il mio nuovo casco, casco F1 eSports me l'hanno dato così a caso per aver partecipato all'evento settimanale l'ho preso più che volentieri anche i guanti vedrete anche i guanti di F1 eSports sono di un colore di default, un colore che non si può cambiare ma si intona perfettamente con la livrea nero oro della macchina quindi potrei decidere anche di usarli per tutto il resto della stagione comunque sia siamo in qualifica diamo come del consueto un'occhiata alle gomme la pirelli ha portato le tre mescole più dure in assoluto le morbide fanno 17 giri, le medie ne fanno 30 e sono 6 decimi più lente le hard ne fanno 40 e sono altri 6 decimi più lente quindi un secondo doppio più lente rispetto alle soft ultimo run qui in qualifica alla fine del Q1 sono in ventesima posizione davanti comunque a Matsushita dietro però a Russell, Russell ha una macchina sulla carta inferiore alla mia quindi sulla carta in teoria dovrei ribatterlo però sappiamo Russell che è forte quindi comunque non è facile, il mio lo sto facendo perché sono davanti a Matsushita è stato un bel giro quello che attualmente mi vale il best lap quindi non so quanto sia migliorabile qui anche una, è un brutto errore, qui una sbavatura che mi costa oltre un decimo ok, mancano solo due minuti alla fine e sei in zona eliminazione ci serve un giro a gran velocità o saremo fuori dalle sessioni di qualifica ok, l'ho quasi recuperato quel decimo che ho perso il problema è che non devo eguagliare il mio tempo, lo devo migliorare se lo eguaglio al millesimo serve a ben poco qua devo brevemente spegnere l'ers se no mi finisce l'uscita dell'ultima curva qui sono un po' rimbalzato sul cordolo qui chiaramente riattivo l'ers dai che mi sto migliorando, dai che mi sto migliorando in una cinquantina di millesimi non basta per migliorare la posizione però allora proviamo questo ultimo giro non dovrei riuscire a migliorarmi perché qui a Barcellona le gomme si consumano rapidamente e si surriscaldano anche quindi migliorarmi nel secondo giro è quasi impossibile poi quando arriveremo nel guidato si sentirà l'usura delle gomme attenzione qui è un errore muro hanno perso grip le gomme giustamente si ho tenuto giù tutto perché nel primo giro avevo tenuto giù tutto e qui chiaramente secondo giro gomme più consumate dovevo mollare il gas ma comunque non avrei migliorato finito il Q1 quindi miglior tempo per Valtteri Bott sono 14.9 vediamo in che va peccato mi sono fatto battere anche da manzuscita che evidentemente ha migliorato proprio nell'ultimo giro e mi ha battuto di un decimo esatto 17.421 contro 17.521 che ho fatto io peccato peccato ma sono comunque davanti a Russell Russell non è riuscito a sopravvanzarmi quindi l'unica macchina più lenta della mia coyote mortos porta la Williams e ho preceduto sul traguardo entrambe le Williams quindi va bene eliminati insieme a me a Norris questa è un'eliminazione decisamente sorprendente quella di Lando Norris con la McLaren forse magari stava facendo il best lap quando mi son girato quando mi son schiantato a muro e ha dovuto abortire non lo so perché è strano che sia stato eliminato poi Giovinazzi, Mazzucita, Io e poi chiaramente Russell e Latifi con le due ass le vedo lì davanti Grugian e Magnus in dodicesimo e tredicesimo veramente hanno fatto un salto in avanti clamoroso sì ottimo guarda mi sono solo fatto battere dal compagno di squadra e ho spiaccicato la macchina a muro ma per il resto veramente un'ottima giornata ma davvero non sono arrivato in Q3 incredibile non l'avrei mai pensato miriamo solo ai punti però miro ai punti scusa ma sono obbligato a dire che miro ai punti ma che domande sono come sempre fra qualifiche e gara alziamo la difficoltà da 102 a 107 dopo le appassionanti qualifiche di ieri diamo un'occhiata alla situazione in classifica Louis Hamilton parte dalla pole position e appena dietro prende posto ah Verstappen ma con un distacco enorme da Hamilton e forse Bottas è penalizzato forse perché si Bottas è sicuramente stato penalizzato perché non può esserci qualificato addirittura eccolo lì dodicesimo quindi si era qualificato secondo il buon Valtteri Bottas per il resto griglia comunque abbastanza realistica se si esclude sempre la prestazione del Ferrari che sono troppo forti qua nel gioco rispetto alla realtà però vabbè questa è la stagione 2021 ripeto strategia di gara il gioco mi suggerisce una tattica a una sola sosta media e hard ci sta sul fronte 2019 questa tattica qui a Barcellona mi faceva sempre guadagnare sugli avversari perché gli avversari facevano quasi sempre due soste comunque sia la tattica a due fermate è praticamente equivalente ci sono solamente due secondi di differenza quindi praticamente anche se uno fa due soste perde poco e niente e comunque partendo con le gomme medie mi tengo aperta la possibilità di poter decidere poi al secondo pit di montare gomme soft o un altro set di medie per passare a quella alla tattica a due fermate così mi dovessi accorgere di avere troppi problemi molto bene tutto è pronto per la partenza del Gran Premio di Spagna vedo tanti piloti attorno a me con le gomme medie quindi forse non sarò l'unico a fare una tattica a sosta singola partiti intanto mettiamo l'Hers ha avuto un po' di sovrasterzo passando in terza marcia ma comunque rispetto alle partenze che facevo sul freno numero 19 è molto meglio mi supera Russell perché ha gomme più morbide e poi staccano tutti molto presto vado a ripassare Russell e forse anche Matsushita che però mi ha ancora affiancato attenzione c'è un altro rallentamento qui davanti devo stare attento qui ho un po' di sottosterzo mi affianca Russell con il maggior grip delle sue gomme soft poi inchiodano qui ma cosa fate? cosa fate? qui davanti hanno inchiodato si è avvertimento a me certo non a loro che inchiodano 200 metri prima comunque vado a scavalcare addirittura le due alfa la IA si conferma ancora una volta pessima nelle prime curve di gara ma poi si sa che a gruppo sgranato poi la IA comunque qui in Formula 1 va forte va forte come dovrebbe andare invece in Formula 2 anche a 110 era troppo scarsa in qualsiasi situazione tanto qui ne approfitto per fare anche un altro sorpasso ai danni di Romain Grosjean portarmi così in sedicesima posizione si vediamo qua il replay della partenza con Lewis Hamilton che non scatta proprio benissimo parte molto meglio di lui Max Verstappen vediamo con Hamilton però che va a chiudere la staccata alla prima curva si va a prendere la linea favorevole arriva a nuovo Verstappen con le due Ferrari affiancati proprio in tre in tre incredibile come hanno fatto a non schiantarsi Verstappen quindi passato alla fine dalle due Ferrari e attaccato anche dalla Racing Point di Sergio Perez con la Verstappen ancora che resiste cattivissimo Max Verstappen se lo tiene dietro e qui davanti ancora continua la grande lotta fra le due Ferrari affiancate praticamente per tutto il primo settore con Charles Leclerc che alla fine riesce a completare il sorpasso su Sebastian Vettel vediamo qui anche lo spunto di Valtteri Bottas partito dalla dodicesima posizione causa penalità va subito a sopravanzare una Haas poi va ad attaccare anche Estebano Con va a prendersi la linea centrale e subisce il ritorno da parte della Haas quasi viene schiacciato a sandwich riesce però un po' sgomitando a prendersi la decima posizione e attenzione mi si surriscalda addirittura la gomma media guardate a 110 gradi non oso pensare la soft allora come come si scalda se vi da problemi già la media e questa comunque la conferma che conviene fare una tattica a una sosta evitando del tutto di mettere le morbide che le morbide penso che siano ingestibili se già si surriscaldano queste qui ecco qui basta semplicemente trattarle un po' meglio le gomme e vedete che sono a 103 gradi anziché a 110 basta trattarle bene basta non strapazzarle anche qua una curva dove la gomma è molto stressata vado a cercare di avere l'angolo volante minore possibile per stressarla meno possibile anche qui vedete come vado a raddrizzare tantissimo il volante in questo modo la gomma soffre molto di meno qua invece nelle curve verso sinistra posso anche affrontarle in maniera più aggressiva perché tanto la gomma a destra non si surriscalda di qua guardate esco dalla curva volante già dritto il prima possibile e la gomma è a 102 gradi si qui praticamente la curvo con l'acceleratore praticamente in uscita da curve come questa che ho appena fatto ho curvato quasi con l'acceleratore ho raddrizzato il volante ma la macchina continuava a curvare perché intanto andavo in sovrasterzo con le gomme posteriori quindi l'aiutavo a chiudere la curva in quel modo non con il volante ma con l'acceleratore in questo modo le gomme si surriscaldano di meno ci sono già dei piloti Ricciardo Perez e Albon già dei piloti che sono andati in box loro evidentemente sono partiti con le gomme soft qui si vado a sbagliare completamente la frenata e devo far passare Perez chiaramente perché no non è Perez Raikkonen no ma come è possibile c'era Perez c'era Perez che idiota che sono dovevo far passare Perez eccolo qui Perez che passa lo stesso chiaramente anche senza che lo faccio passare sono stato veramente un idiota no perché dovevo far passare Perez perché insomma l'avevo superato finendo largo di 50 metri solo che non avevo visto che nel frattempo dietro c'era Raikkonen e non più Perez io devo dare la posizione a Perez non a Kimi mannaggia sono stato un pollo sono stato veramente un pollo tanto che chiaramente mi supera Daniel Ricciardo non devo lottare con lui chiaramente lui ha gomme nuove appena montate devo cercare semplicemente di rimanere attaccato a Kimi Raikkonen per poterlo magari superare quando Kimi viene superato da questi piloti qua da Ricciardo e da Perez però Kimi ha di più ha dimostrato per tutta la gara praticamente di averne di più mi è stato incollato dietro e quando uno ti sta incollato dietro così vicino vuol dire che ne ha di più attenzione però che arriva anche Giovinazzi arriva anche Giovinazzi mi divora così in rettilineo e questa non è una cosa bellissima perché proprio in occasione quasi in occasione del mio pit stop del nostro pit stop visto che anche Giovi chiaramente su una sosta e si fermerà più o meno insieme a me non ci voleva non ci voleva però insomma se mi passa in rettilineo con una velocità così tanto più alta non è che posso farci tanto io per per difendermi volevo quasi fare un undercut e fermarmi in questo giro qui poi però ho visto che ero molto vicino a Giovinazzi che posso quindi provare il contrattacco nei confronti del pilota italiano allora ci provo all'interno staccata violenta ci sto dentro perfettamente mi riprendo quindi la posizione su Antonio Giovinazzi e allora pit stop primo e unico pit della gara Giovinazzi mi era proprio incollato dietro vediamo dai si vabbè ma non mi ha fatto ripartire non mi ha fatto ripartire mi aveva dato il verde ho mollato la frizione la macchina non è partita dai però dai però cos'è cos'è mi doppia in questo momento il leader della gara che stranamente è Charles Leclerc il leader della gara come cavolo è possibile che Charles Leclerc sia in testa e mi doppia praticamente a metà gara quindi sono lì per prendermi due giri di distacco oppure uno solo proprio siamo sul filo adesso anche Giovin chiaramente si fa doppiare da Charles Leclerc e ritorno chiaramente a essergli incollato dietro ma attenzione che c'è un altro pilota forse Vettel l'altra Ferrari addirittura sono primi e secondi le due Ferrari ma è Vettel ha le gomme hard quindi attenzione si fa doppiare Giovinazzi in maniera un po' ingenua e allora ne approfitto ne approfitto e passo Gio ma come ignora bandiera blu ma se nel frattempo ho superato un pilota ma cos'è qui rivediamo intanto il replay del sorpasso su Giovin andando un po' anche oltre i limiti della pista ma non capisco il perché della penalità io ho fatto un sorpasso no 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 questa cosa qui questa cosa qui non va bene dal momento in cui io ho superato Giovinazzi in quel momento la bandiera blu a me non valeva più nel momento in cui ho superato Giovinazzi era Giovi da quel momento lì il pilota subito davanti a Verstappen era lui che doveva farsi da parte a quel punto la bandiera blu decade adesso facciamolo passare se no prima che me ne da un'altra però la bandiera blu vale se io sono il pilota che è immediatamente davanti al pilota che è un giro avanti ma nel momento esatto in cui io ho superato Giovinazzi la bandiera blu su di me decade perché il pilota appena davanti è Giovinazzi il pilota appena davanti è Verstappen quindi non sta niente in terra che mi sia stata data la penalità dopo che ho passato Giovinazzi se la penalità me la davano prima che io superassi Giovi allora ci stava perché ok il gioco ha valutato che è passato troppo tempo senza che abbia lasciato passare Verstappen ok allora lì ci stava ma non mi può dare la penalità dopo che ho superato Giovinazzi non mi può dare la penalità dopo che ho messo un pilota una macchina fra me e il pilota che mi deve doppiare questo non sta niente in terra proprio fatto bene a chiamare la mia squadra morto sport perché stanno uccidendo lo sport la FIA con queste regole idiote sta uccidendo lo sport anche adesso bandiera blu ma dietro di me c'è Giovinazzi questo è Giovinazzi questo qui che mi è subito dietro e non mi puoi dare la bandiera blu se dietro di me non c'è il pilota che mi deve doppiare ma c'è uno con cui sono in lotta per la posizione stupido sto gioco è stupido veramente stupido adesso sì adesso sì adesso sì che le Mercedes hanno doppiato Giovi adesso sì ma prima no prima c'era Giovi dietro di me se io rallentavo con la bandiera blu mi superava Giovi altro che doppiarmi le Mercedes perdevo la posizione su Giovi è stupida sta cosa veramente stupida ma questa è una beta questa sto gioco è ancora in fase beta non è possibile non è possibile che un gioco uscito da mesi abbia ste cazzate qui non è possibile attenzione Giovinazzi ancora vicino c'è il contatto c'è il contatto stavolta ci siamo dati una ruotata spero è volato via il club è volato via il club ti pareva ecco qua un altro ruota ruota ruoli invertiti stavolta ero io all'esterno ruoli all'interno ah no ma non sei staccato il club ci sono ancora entrambi i club sulla mia ala bene così ecco qui anche il contatto visto dall'onboard camera di Antonio Giovinazzi contatto proprio gomma contro gomma quindi non capisco come si possa essere danneggiata l'ala se ci siamo toccati gomma contro gomma e infatti i club ci sono ancora tutte e due ancora 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 attenzione di nuovo all'interno stavolta dello spazio glielo do per evitare un altro contatto adesso però c'ho la traiettoria favorevole io e riesco a tenerlo dietro solo che però ho perso un secondo e quattro da Kimi Raikkon è un peccato ero sceso quasi sotto ai due secondi di ritardo nei confronti del finlandese e adesso ho subito riperso tantissimo ho quasi raddoppiato il mio distacco l'ingegnere ha detto che la mia l'hai rotta ma i flap ci sono ancora tutte e due vediamo alla guida proprio come guidabilità se il danno si sente oppure no non mi sembra se devo essere sincero la macchina mi sembra che si guidi normalmente vediamo attenzione ecco che arriva l'attacco di Romain Grojean in fondo rettilineo resisto riuscendo anche a non arrivare lungo non sarà facile tenere dietro Romain e Giovinazzi per tutta la gara però ci sto riuscendo abbastanza agevolmente in fine conti arrivano all'attacco solamente a volte in fondo al rettilineo principale però Kimi Raikkonen ormai sta scappando quindi segno che con il danno cioè il danno all'ala mi fa effettivamente perdere tempo anche se visivamente il flap non è volato via però al lato pratico sto perdendo prestazioni come se appunto il flap fosse volato via qui c'è praticamente quando l'ingegnere ti dice che c'è il danno c'è il danno e si ripercuote sulla guidabilità indipendentemente dall'ala se il flap è volato via o no indipendentemente dal grafico dei danni se l'ala è verde chiaro o è gialla o arancione se l'ingegnere ti dice che hai danneggiato l'al anteriore allora si ripercuote sulla guidabilità se l'ingegnere non ti dice niente allora allora il danno non ce l'hai ecco attenzione contatto mi tocca là dietro giovinazzi io avevo fatto passare albone giovinazzi mi ha poi tamponato in pieno vediamo qui io mi faccio da parte per far passare albone poi giovinazzi no qui colpa sua è lui che mi colpisce in pieno qui 100% colpa sua e rompe anche l'ala bandiera blu mi sa che questo è il secondo doppiaggio questo ad opera è infatti Verstappen e Bottas che si stanno giocando la vittoria sono proprio vicinissimi fra di loro e quindi mi sono preso due giri il primo doppiaggio l'avevo subito esattamente a metà gara il secondo doppiaggio invece l'ho subito molto prima della fine perché l'ala rotta mi ha rallentato senza l'alettone rotte rotto sarei stato più o meno dove era Eikkonen perché insomma prima del guasto della rotta dell'ala ero a due secondi Rakimi quindi sarei stato almeno 20-25 secondi avanti più avanti rispetto a dove sono adesso e forse il doppiaggio neanche neanche sarebbe arrivato il secondo doppiaggio comunque interessante è che si stanno giocando la vittoria Verstappen e Bottas quindi Hamilton è sparito non lo vedo neanche dove neanche nella minimappa non vedo ah ok è lì si è intravisto nella minimappa ma è molto indietro Hamilton è molto indietro Hamilton le Ferrari sono entrambe sparite non so cosa ah no la Ferrari non è sparita e dietro a cosa dietro a Grosjean c'è una Ferrari un pallino rosso quindi la Ferrari che prima era in testa adesso è terza attenzione ho perso la quinta marcia ho perso la quinta marcia sparita proprio a pochi giri dalla fine quindi il cambio è già arrivato a 72% si vabbè giustamente perché questa è la sesta gara certo ci sta ci sta che il cambio inizia a dare problemi siamo alla sesta gara tornata già la quinta è stata via neanche due giri molto bene anche se non ho perso praticamente niente senza la quinta marcia alla fine più è alta la marcia che perdi è meno problematico beh anche se perdi la prima o la seconda non è poi cioè praticamente esistono le marce peggiori da perdere sono la terza e la quarta se perdi una marcia che non sia la terza e la quarta la perdita è praticamente nulla anche perché io poi quando mettevo la sesta mettevo l'Hers su sorpasso per un paio di secondi in modo da compensare il fatto che i giri andassero troppo giù perché lì ci doveva essere la quinta quindi alla fine ai conti non perdevo veramente nulla attenzione che Grosiano è molto vicino potrebbe arrivare all'attacco sono uscito un po' male dall'ultima curva e per questo metto Hers su sorpasso e misce la grassa che mi aiuta mi aiuta tantissimo e impedisce a Romain di attaccarmi evidentemente Romain non aveva abbastanza Hers per poterlo utilizzare anche lui e questo è l'inizio dell'ultimo giro perché io sono doppiato due volte e quindi era l'ultima occasione che aveva Grosiano di superarmi alla staccata della prima curva e quest'occasione l'ha sprecata e intanto Valtteri Bottas Valtteri Bottas vince quindi ha superato Verstappen evidentemente proprio negli ultimi giri si è andato a prendere la vittoria questo Bottas qui l'hanno fatto troppo forte il vero Bottas non avrebbe mai fatto un sorpasso su Verstappen quanto a me arriva un buon sedicesimo posto un ottimo sedicesimo posto contando che ho fatto tutta l'ultima parte di gara con la macchina danneggiata e che prima di danneggiare la macchina stavo lottando la pari con Raikkonen e che anche con la macchina danneggiata ho tenuto dietro la Haas di Grosian che in teoria è molto più veloce della mia macchina quindi ottimo veramente ottimo Valtteri Bottas che mi ero dimenticato lui aveva avuto 10 posizioni di penalità è partito dodicesimo è recuperato dal dodicesimo primo ma questo non è Bottas ci hanno scambiato secondo me hanno scambiato Bottas con non lo so perché non è Bottas non può essere lui l'hanno fatto troppo forte l'hanno fatto troppo forte il vero Bottas se parte dal dodicesimo arriva a settimo il vero Bottas addirittura battendo Hamilton superando Verstappen ma cos'è ma cos'è ma chi ci hanno messo al posto di Bottas veramente è uno scherzo o cosa e niente quindi Valtteri Bottas vince battendo Verstappen di un secondo superandolo proprio negli ultimi giri non so la Codemasters chi ci ha messo al posto di Bottas in macchina però e vabbè abituiamoci a vedere un Bottas fortissimo perché qua l'hanno fatto troppo forte hanno fatto troppo forte anche la Ferrari perché insomma la Ferrari che si qualifica quarta arriva terza a meno di 6 secondi dal vincitore in stagione 1 io mi chiedo che cavolo di campionato abbiano visto quelli della Codemasters cioè un campionato dove Bottas hanno messo Bottas superfortissimo che fa i sorpassi come anche fosse un mix fra Senna e Schumacher hanno messo la Ferrari che arriva a 6 secondi dalla Mercedes in una gara senza neutralizzazione hanno messo Hamilton che arriva a Merdè ma che cavolo di Formula 1 stanno vedendo hanno visto quelli della Codemasters ma veramente Hamilton poi ha fatto 3 soste e avrà combinato qualcosa a questo punto Hamilton perché 3 soste non è assolutamente è una strategia morbide morbide medie hard soft medie che cavolo ha fatto Hamilton si qui ci sono un po' di incidenti da parte mia Hamilton all'anteriore ha sostituito l'alettone anteriore Hamilton al 31esimo giro deve avere avuto un contatto con qualcuno presumibilmente con un doppiato ecco perché ecco perché Hamilton è arrivato così indietro e vabbè sì ma nella vita reale nella Formula 1 reale una Mercedes che fa un pit stop in più arriva comunque davanti a una Ferrari cioè non esiste non esiste che Hamilton sia finito dietro a una Ferrari in stagione 1 con le prestazioni delle macchine che sono ancora quasi uguali a come era all'inizio ecco quindi la Codemasters ha fatto la patch delle prestazioni non oso pensare come era prima prima della patch delle prestazioni perché questo in teoria dovrebbe essere dovrebbero essere i valori in campo proprio quelli reali perché ho iniziato la carriera ben dopo la patch che ha modificato le prestazioni non oso immaginare come era prima non oso proprio immaginare come cavolo era prima della patch delle prestazioni comunque sia dopo Hamilton che arriva quarto con una sosta in più avendo rotto l'ala c'è Charles Leclerc che fa due soste e non una sola quindi per questo è arrivato parecchio indietro rispetto a Vettel poi Albon sesto ed è ultimo fra i piloti pieni giri perché poi dal settimo in giù sono tutti doppiati Ocon, Norris, Perez e Ricciardo che vanno a chiudere la zona punti con Stroll undicesimo la Racing Point è un'altra di quelle macchine che l'hanno fatta scarsa l'hanno fatta scarsa nella realtà è molto più forte di così la Racing Point dovrebbero sostituire la Ferrari con la Racing Point invertirle e così forse andrebbe bene ma per il resto non lo so sono un po' sconcertato ho aspettato mesi prima di iniziare la carriera perché volevo aspettare la patch delle prestazioni e fanno sto schifo qua fanno con la Ferrari che arriva a 5 secondi dalla Mercedes con la Racing Point che arrivano fuori dai punti cioè queste sarebbero le prestazioni realistiche queste cioè mi cascano le braccia per non dire l'altra parte del corpo veramente la Codemasters si perde in un bicchiere d'acqua si perde veramente in un cacchio di bicchiere d'acqua è incredibile è incredibile è incredibile comunque sia dietro a Stroll 11esimo abbiamo Magnussen 12esimo un tuore di un'ottima gara poi le due Alfa Tauri di Kiviat e Gasly Kimi Raikkonen che arriva a 15esimo e scusa per come faccio a a essere davanti no ma poi ho 10 secondi perché ho 10 secondi di penalità cosa cosa combina come 10 ah due volte ah anche al 55esimo giro mi sono beccato la penalità per aver ignorato le bandiere blu ma ero proprio accorto mi ero accorto della prima non della seconda e comunque sia perché la penalità non mi viene contata sul traguardo cioè io sono arrivato tra le virgolette quasi involata con Grugian con Mazzucita e perché sono davanti come faccio a essere ancora davanti nonostante 10 secondi di penalità io sarò finito un secondo davanti neanche a Grugian secondo me adesso non ho visto bene dove erano rasse le giovinazzi ma forse dovevo finire anche dietro la rasse le giovinazzi e invece non le conta le penalità il gioco non le conta questo è un altro cioè questa è una cacchio di beta questo gioco è una cacchio di beta ancora non è possibile una cosa del genere scusa ma allora nei campionati quelli sports quelli che hanno il taglio quello rigoroso che i piloti si beccano penalità su penalità su penalità alla fine non gli contano le penalità cioè fatemi capire com'è sta roba qui delle penalità non lo so non lo so non lo so è inutile è inutile anche stare a ragionarci che si finisce solo per arrabbiarsi vabbè io finisco davanti a Grugian va bene la penalità non me l'hanno contata meglio così per carità e ho fatto comunque anche una mezza impresa a tenere dietro una has che sulla carta è molto più competitiva della mia coyote mortosport basta vedere dove è finito Magnussen ho tenuto dietro chiaramente anche il mio compagno di squadra ho tenuto dietro Giovinazzi un altro pilota si Giovinazzi che mi ha tamponato ha rotto l'ala però insomma mi ha tamponato vuol dire che ero davanti a lui se mi ha tamponato ecco è stata una gara bella peccato per il contatto che mi ha danneggiato l'ala perché stavo recuperando su Raikkonen potevo forse anche finire davanti a Raikkonen anche se chi mi ha fatto 1.18.8 come best lap io 1.26 però se non rompevo l'ala facevo molto meglio di 1.26 come best lap bisogna dire anche questo ecco quindi dietro a Grosjean e Matsushita abbiamo Russell che ha fatto due soste Giovinazzi che ne ha fatte due perché ha rotto l'ala e non per la sua scelta e poi Latifi ultimo fra i classificati con Carlos Sainz ritirato per guasto tecnico nelle fasi iniziali di gara posizione di campionato Luis Hamilton ancora in testa al campionato con 123 punti ma Max Verstappen poco a poco sta riducendo il suo distacco l'ha portato adesso a meno 31 punti sarebbero stati 24 se fosse riuscito a vincere se fosse riuscito a tenere dietro Bottas negli ultimi giri un Bottas che sale in terza posizione a 53 punti ancora dalla vetta Vettel sale in quarta posizione con Leclerc anche quinto Sainz scende chiaramente essendosi ritirato poi via via tutti gli altri noi siamo ancora in 18esima posizione a quota 0 non abbiamo né guadagnato né perso posizioni chiaramente il nostro miglior risultato rimane sempre un tredicesimo posto ancora ottenuto nella prima gara di campionato a Melbourne classifica costruttori la Mercedes sempre davanti chiaramente alla Red Bull 53 punti di margine 83 punti di margine sulla Ferrari che è terza la Racing Point supera la Renault di due lunghezze e a quota 0 abbiamo ancora Haas Alfa Coyote Morto Sport e Williams il punto della situazione per quanto riguarda la ricerca e sviluppo è arrivato l'upgrade di aerodinamica posteriore che doveva arrivare subito dopo la gara di Spagna ed è arrivato quindi abbiamo fatto un passo in avanti per quanto riguarda l'aerodinamica ci sono due potenziamenti uno di motore uno di telaio che arriveranno entrambi dovrebbero arrivare se almeno di guasti il 25 quindi dopo anche il Gran Premio di Monaco se non sbaglio e intanto possiamo andare a sviluppare un altro upgrade di aerodinamica andiamo a sviluppare lo step 2 diciamo così della deportanza anteriore dovrebbe arrivare il 29 maggio quindi fra il GP di Monaco e quello di Baku a meno di guasti ovviamente abbiamo oltre 2 milioni e mezzo di dollari direi che possiamo permetterci questo potenziamento del reparto aerodinamica fabbricazione che ci consente di sviluppare due aggiornamenti contemporaneamente oppure possiamo sviluppare quello del tempo di costruzione che diminuisce del 20% il tempo di costruzione degli upgrade forse è meglio questo forse è meglio questo andiamo a potenziare il tempo di costruzione beh richiede un po' di giorni ma pochi mi sa che siamo l'11 maggio quindi 5 giorni per attivarsi questo upgrade e dal 16 maggio in poi il tempo di sviluppo delle varie componenti sarà ridotto di un quinto cos'è? liquidità bassa non hai abbastanza denaro per rinnovare il contratto del tuo compagno ho mica adesso scusa perché lo devo rinnovare adesso scade mica adesso il contratto di quando scade fra 56 giorni intanto il valore di mercato è aumentato è arrivato a 2 milioni e mezzo cavolo allora mi sa che da ora in poi fino al rinnovo di mazzuscita mi conviene non spendere più niente per miglioramento delle infrastrutture altrimenti non potrò permettermi di rinnovare il contratto al buon mazzuscita ricordo che nel nome del realismo mi sto tenendo con un solo sponsor quando potrei averne altri due ma nel nome del realismo finché non ottengo un buon risultato almeno che ne so un piazzamento di punti non è realistico che altri sponsor si interessano al mio team quindi ne tengo uno solo per adesso ecco perché ho pochi soldi diciamo così abbiamo otto giorni prima dell'inizio del prossimo weekend direi proprio di spendere quattro giorni e 20 mila dollari per questo evento finanziato dal team trasferta che ci dà 30 punti risorse e soprattutto aumenta del 5% il morale di tutti i reparti di sviluppo della macchina quindi veramente ottimo conviene assolutamente poi abbiamo altri quattro giorni ne andiamo a spendere due per programma team building aerodinamica 5 mila dollari di costo altro 5% in più di morale per il reparto aerodinamica e poi due giorni possiamo fare raccolta fondi spot promozione pilota allenamento forza G per aumentare la destrezza di mazza uscita di un punto va benissimo ok perfetto quindi questo è il programma della settimana la settimana di avvicinamento al GP di Monaco i nuovi pezzi sono arrivati senza problemi ottimo allora che pezzo è già che è arrivato e niente cos'è che è arrivato scusa scusa eh il motore è ancora qua l'aerodinamica chiaramente è ancora qua il telaio è ancora qui e scusa che pezzo è che sarebbe arrivato fatemi capire c'è qualcosa che mi sta sfuggendo boh non lo so non lo so mi da mi da false speranze mi danno false speranze a meno che non sia uno di questi cosini piccoli qui dell'affidabilità che effettivamente mi sa che prima ce n'era soltanto uno questi sono quegli upgrade automatici che ti da la Honda che ti da il fornitore del motore infatti installato installato poi ti dice anche questo me lo darò il 22 luglio 7 settembre 25 giugno quindi fra un mesetto avrò già un altro upgrade di affidabilità potrebbe essere che l'upgrade che mi è arrivato che ha detto l'ingegnere è uno di questi due qua che ha ad aumentare va ad aumentare fornitore del motore sono manutenzione generale penso boh affidabilità generale non lo so cosa è l'unico è quello perché mi sa che ce n'era soltanto uno di quei due cosini là l'unico upgrade che potrebbe essere arrivato è quello comunque sia siamo arrivati alla fine anche di questo video abbiamo già vedete abbiamo 941 mila dollari perché ci è arrivato già il pagamento settimanale da parte dello sponsor quindi dai alla fine anche quei due milioncini che abbiamo appena speso si recuperano si recuperano sicuramente in tempo per fare in tempo chiaramente a rinnovare il contratto di Matsushita quindi non c'è problema se non vado a sperperare altro denaro in giro non dovrebbe essere assolutamente un problema rinnovare Matsushita che se la sta cavando se la sta cavando abbastanza bene mi ha fatto arrabbiare un po' in Vietnam e in Cina però dai le sue prestazioni sono a tutti gli effetti decenti positive e poi tanto non è una macchina in grado di finire nei punti quindi neanche Hamilton riuscirebbe a finire a punti con questa macchina qua quindi alla fine il compagno di squadra in questa fase iniziale della carriera assume un'importanza piuttosto marginale perché la macchina comunque non è in grado di giocarsi dei risultati decenti quindi sono sicuramente orientato a tenere Matsushita almeno fino alla fine della stagione di questa stagione qui è come lo che non convini proprio dei disastri molto bene quindi dire proprio che è giunto il momento di terminare questo video l'appuntamento è per il GP di Monaco